Il momento di conflitto è il giorno della madre oggi è il giorno della madre oggi è il giorno del guru femminile perché Giannava Gigi era il guru femminile e era il top femminile perché Giannava madre era il più grande guru femminile perché lei non era il guru femminile perché lei non era il guru femminile perché non c'erano il guru uomini ah perché lei era il guru femminile di default e non c'erano il guru uomini no, c'erano molti guru uomini e loro anche hanno preso le fitte ah ecco capito quindi c'erano molti guru uomini ma in ogni caso hanno preso rifugio ovviamente era la moglie del signor Niterano ma in ogni caso lei prese questa posizione e andò alla guida dell'Associazione Mondiale Vaishnava di quei giorni dopo Jiva Goswami la Vispa Vaishnava di Raja Sabha cominciò a procedere dopo Jiva Goswami è ovvio che se andate a Vindavan e vedete che ogni ponte di ponte c'è un grande, bellissimo tempo se voi andate a Vindavan ad ogni pietra in ogni angolo c'è un bellissimo grande tempio e sono tutti connessi a vari maestri spirituali qualche volta si uniscono insieme qualche volta qualcuno manda uno studente a studiare da un altro c'è una varietà di associazioni quindi c'è proprio un'altra sfera di associazioni quindi loro avevano bisogno della Vispa Vaishnava Raja Sabha che vuol dire stare insieme quando c'è da discutere qualcosa di interesse comune non è che ti metti a discutere chi è che cucina nel lato d'altro o qualcosa di locale necessità di necessità del uomo però devi sicuramente parlare della visione mondiale del Vaishnavismo cosa fare per il mondo perché la visione di Chaitanya Mahaprabhu è per tutto il mondo quindi ci deve essere bisogna capire qual è il significato del perché i Vaishnavas si sono sparsi così in tutto il mondo e quindi dobbiamo imparare la scienza dell'unità nella diversità come l'albero di Chaitanya Mahaprabhu e sono differenti rami e ci sono rami, sottorami e sottosottorami noi dobbiamo mettere qui quel poster che è il poster dell'albero del Teismo che è una specie di albero della Parampara non ce l'abbiamo uno qui quindi questo poster ancora non ha raggiunto Ishodyan quindi mentre il Vaishnavismo si espande il Vaishnavismo bisogna compiere diverse cose sempre più cose e nascono nuove domande quindi qui siamo in un posto molto speciale perché questo posto ha riusciuto questo è il cammino di due scarpe speciali nelle quali sono stati dei piedi dei puri piedi di lotto quindi Shilapuri Maharaj quindi Shilapuri Maharaj è venuto qui tante volte questa è una grande misericordia quindi questa è una grande misericordia magari 11 volte sì non credo che Prabhupada si è venuto qui mi sembra che il Guru Maharaj sia venuto qui in Italia 11 volte e lui pensa che Prabhupada non si è mai andato 11 volte da nessuna parte forse a New York o a Brindama ma non in altri posti ma non in altri posti 11 volte Shilapakti Vairbapuri ha scelto su questa terra e ha purificato l'area quindi per 11 volte Guru Deva Vairbapuri Maharaj ha messo i piedi su questa terra e ha purificato tutta l'aria e siamo qui che stiamo cercando di fare qualcosa per lui e siamo qui che stiamo cercando di fare qualcosa per lui e in tutti i posti dove Krishna ci permette di andare perché in ogni posto dove ci sono i due gotici dovrebbe essere un tempio e Battisiddanta disse noi dovremmo costruire un tempio nel cuore di un uomo questo messaggio è lo scopo della sua missione un tempio nel cuore di ogni mi sembra una buona idea e non servono i mattoni per fare questa cosa e non serve il cemento ma servono un sacco di sorrisi e un sacco di mantra e la sadama e servono un bel po' di altre cose ma costruire un tempio nel cuore di qualcuno vuol dire conquistare il suo cuore per Cristo e costruire un tempio nel cuore di qualcuno vuol dire conquistare il suo cuore per Cristo come possiamo e mettetelo avrai giù e mettetelo avrai giù e mettetelo avrai giù e mettetelo avrai giù quindi l'esperienza che noi abbiamo con il nostro Guru quindi l'esperienza che noi abbiamo con il nostro Guru che ci che ci che è fortissima che ci fa pensare a Krishna e ci fa pensare a Krishna e ci fa pensare ci fa sentire di essere impegnati con Krishna qualcosa che nessuno vorrà mai dimenticare questa è un'esperienza di speciale misericordia questa è un'esperienza di speciale misericordia